Dopo aver chiuso il trisse di acquisti dal Verona con l'arrivo in Biancazzurro di Zampano, Valoti e Cappelluzzo, i dirigenti del Pescara potranno ora concentrarsi sulla ricerca di una prima punta di peso. In questo momento è questa la priorità del tecnico Massimo Oddo, che non sembra credere fino in fondo nelle potenzialità di Ante Vukusic, che non è ancora riuscito a convincere appieno il trainer adriatico. Il croato cercherà di far ricredere in questi giorni a cingoli il tecnico pescarese, ma se dovesse arrivare una richiesta importante, l'ex capitano dell'Aiduc di Spado potrebbe salutare. Il pescare alla ricerca di un nuovo Melchiorri, che sarebbe stato identificato in Diego Falcinelli, l'ex giocatore della Virtus Lanciano lo scorso anno in doppia cifra con il Perugia di Camplone, corrisponde all'identikit preparato da Oddo ai dirigenti Biancazzurri. Giocatore forte fisicamente, tecnicamente valido e veloce, sarebbe l'ideale per gli schemi dell'allenatore del Delfino. In alternativa, nelle ultime ore si è fatto il nome di una vecchia conoscenza dei tifosi biancazzurri. Stiamo parlando di Emanuele Calaiò, che però non sembra trovare il gradimento proprio dei supporters adriatici dopo l'addio al Pescara di dieci anni fa, con tanto di coda polemica. L'attaccante siciliano nella passata stagione all'Adriatico nella gara con il Catania fu sonoramente fischiato. Falcinelli è dunque in pole position e i due direttori, Repetto e Pavone, sono al lavoro per trovare la strada giusta che possa avvicinare Falcinelli. Trattativa difficile, ma non impossibile. Per fare il definitivo salto di qualità servirebbero poi altri due giocatori di spessore, oltre alla punta, un difensore ed un centrocampista esterno. Il tempo non banca e con il mercato aperto fino al 31 agosto è giusto non farsi prendere dalla fretta. Intanto la squadra Cingoli prosegue la seconda parte di preparazione. Sabato pomeriggio alle 17, seconda uscita stagionale contro la Recanatese. Continua infine a buon ritmo la campagna abbonamenti. La prelazione sul posto per i vecchi abbonati è stata prorogata fino al 13 agosto prossimo.